L'Istituto d'Istruzione Superiore Luigi Russo, diretto da Maria Rita Basta, per l'anno scolastico 2022-2023 andrà incontro a coloro che per vari motivi hanno abbandonato la scuola e agli stranieri desiderosi di ottenere un titolo di studio in Italia con l'istituzione del corso serale per l'acquisizione del diploma in chimica, materiali e biotecnologie sanitarie. Il percorso d'istruzione si pone come obiettivi la diminuzione della dispersione scolastica, maggiore attenzione alla flessibilità nello studio e la valorizzazione delle competenze degli allievi dal punto di vista culturale e professionale. Gli iscritti avranno un piano personalizzato di studio sulla base dei propri crediti, attività lavorative e certificazioni pregresse utili per un'abbreviazione della durata del corso. Tra gli sbocchi lavorativi del diploma in chimica, materiali e biotecnologie sanitarie, la libera professione nei laboratori di analisi e controllo qualità, la docenza nella classe di concorso dei laboratori di scienze e tecnologie chimiche e l'iscrizione all'università. Ulteriori informazioni e iscrizioni si potranno avere contattando la segreteria didattica dell'istituto.